I morti non possono parlare, i morti non possono raccontare, i morti non possono avvertire. Sarà vero? Ho spesso degli incubi ultimamente. E che cosa vede? Vedo sempre un omicidio. John, che c'è? Hai visto qualcosa? Mi ha appena detto di cercarla. Cercare chi? Mi chiamo Dararai. Cercami. E se questa donna, questa Dararai, esistesse solo nella tua mente? Dove stai andando? A provarti che non mi sto immaginando tutto. I morti stanno dicendo qualcosa. Io sento di essere costretto ad obbedire ai desideri di quella donna. Lo capisci? Lo capisci? Se ti succedesse qualcosa, non mi resterebbe nessuno. Io e te siamo la sola famiglia che abbiamo. Sta per uccidere mia sorella, deve dirmelo. Mi dica dove è suo marito. Basta, finiscila! Io non posso più curarti. Mi chiamo Dararai. Cercami. 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 Bodhi. 25 febbraio 2011. Ogni cosa tornerà al suo posto. A presto. A presto. Grazie a tutti.